Elezioni europee, 97.617 seracusani alle urne e altri 4.000 votano all'estero. Sono 97.617 gli elettori iscritti nelle 123 sezioni distribuite sul territorio seracusano per la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno. Di questi, 50.726 sono donne e 46.891 uomini. Ma per il rinnovo del Parlamento europeo voteranno altri 4.010 seracusani, 2.171 uomini e 1.839 donne che risiedono nei paesi dell'Unione. Sono invece 96, di cui 82 donne e cittadini europei che voteranno in città. La comunità più consistente è quella polacca, 37 persone, seguita dai rumeni 23, dai francesi 13 e dai tedeschi 11. A differenza del solito, le sezioni saranno aperte già il sabato pomeriggio dalle 15 alle 23 e poi la domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Le 123 sezioni seracusane sono prive di barriere architettoniche. Come già annunciato nei giorni scorsi, le sezioni 78, 79 e 80 sono state trasferite per motivi di agibilità dall'Istituto Agrario di Via Lorina alla Scuola Elementare di Via Archia. Anche questa volta sono state previste 10 sezioni speciali, cioè dotate dei cosiddetti seggi volanti. Due consentiranno di votare ai ricoverati negli ospedali Umberto I e Rizza, una dedicata ai detenuti del carcere di Capadonna e sette agli ospiti delle RSA, delle cliniche e delle comunità terapeutiche.